Ciao a tutti e a tutti, bentornati e bentornati in un nuovo vlog E sì, scusate che ieri non ho registrato ma sapeste quante cose ho fatto Ieri abbiamo montato il tappeto di là, che adesso poi vi farò vedere E praticamente poi sono andata da nonno perché vabbè Mi andava perché poi mamma aveva tante di quelle cose da sistemare Anche i fogliettini con nonna Quindi ce li abbiamo messo tutti Praticamente sono rimasta tutto il pomeriggio da lui Poi sono tornata verso le 6 e 9 a casa E mamma stranamente non mi ha detto neanche niente Poi abbiamo finito di fare i cartoncini E vabbè, poi nulla Poi mi sono messa preparare a mangiare perché avevo fame In più, niente, a parte il fatto che praticamente aspettavamo il giorno dopo Perché la mattinata è volata e cose del genere Quindi nulla A parte il fatto di quello, nulla Io vi saluto Ci vediamo tra poco con, vabbè, in questi giorni con i prossimi vlog Scusate il ritardo ma Ho avuto delle giornate veramente tanto impegnative E vabbè, me le godo Ciao